Raga guardate su com'è ed è molto molto divertente questo petto e guardate come cammina Cioè sembra, sembra di Jenna, sembra lei quando cammina, madonna Ah che bella nottata oggi, sono con la mia amica Mary, io sono Mary e io sono Chloe Perché oggi, beh oggi faremo una cosa molto 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 bella E infatti oggi prendiamo anche un po' di marshmallow insieme alla tenda perché tra poco dobbiamo andare a dormire Perché sapete, andiamo a fare un po' di campeggio Allora, oggi abbiamo proprio intenzione di fare qualche pet neon Beh sapete Mary, ne vuole fare due in questo video E bene sì, vedremo che cosa farà Ok, allora ho preso un altro marshmallow perché sì, i marshmallow sono buonissimi Ma nella vita reale non è che mi piacciono proprio così tanto Ma vabbè, dettagli Ok, innanzitutto saluto Mary e tutti gli altri piccoli clienti che sono con me amici ma soprattutto E mi ha ripetuto un consiglio Se io voglio prendere il chair, vado a fare una cosa Prendo un woodland egg, vado nella fattoria e scrivo nell'accetto che è quello che voglio E lo troverò Vediamo cosa, vediamo se questo è vero Oltretutto è arrivato addirittura la mattina perché è bellissimo Ora prendiamo il nostro woodland egg Cioè 750 bucks Ok, ci siamo Mini Mary Sei bellissimo Ok, adesso Andiamo da questa parte Ok, adesso andiamo Io la prima volta mi è uscito Allora, mi avevo scritto Devi spammare tante volte il pet che vuoi Io la prima volta mi è uscito Guardate cosa è uscito Il cervo raga Ok, l'ha chiamato avocado Devo scrivere follow deer Ok Fallo deer Se non mi sbaglio Ok Adesso che ho fatto Schiudiamo il mio meraviglioso egg Togliamo via la chat Ok Ed ora schiudiamo Mi rimarrà un robux Ok Ok Fallo deer, fallo deer No Abbiamo avuto il picchio Ma io volevo il cervo Non è che sono stata proprio Cioè Non è che questa cosa è funzionata proprio con me Vabbò Dai Ti serviva Sì dai raga Se me ne esce un altro Lo faremo neon Rip Giame Justice Rip Rip per me Ok Adesso andiamo a fare il pet neon Raga Questo pet che noi andremo a fare neon È molto molto bello Perché fa parte del woodland egg E voi dovete proprio indovinare Nella vostra mente Sì Sono davanti Ora che noi siamo qua Indovinati Tra tre Se Tra dieci secondi Quale pet sto per andare a fare neon Ciao Nixie Ti saluto tantissimo Ok Raga guardate Si è trasformata in Nixie Ok Io lascio davanti Faccio fare prima Mary Ah Lei fa il bullfrog Vediamo come appare Vediamo come appare Ok Io non lo posso vedere Però sono sicura che uscire è molto 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 bello Anche qui 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 Vai 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 Fai leone Che bello Che bello Che bello Sono le strisce Il fancino Adoro Adesso che mi ha invitato famiglia Posso prenderlo Che l'ho rubato Ok Così impari a rubarmi i pet Mary Ok Ok Aiuto Sapete cosa Io adesso a Mary do una pozione Ride E io mi tengo quella Fly Ebbene Si vedremo da lei come ride E poi vedremo come Fly Allora Oh Perché lo farò io il pet ride Fly Scusate Ok Ok Beh si Devi accettare Mary Bravissima Bravissima Scebo E ora prendiamo Questa pozione No eh No Sì 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 Se lo fai ride Vediamo cosa dice Poi questa fa anche una parte Dell'aggiornamento Chiamiamo Un'ambulanza Che sto svenendo Ti voglio bene Grazie Però prima lo fai tu Adesso tocca a me E volevo fare anche il bullfrog Pasta cercare Ha ha Questi sono tutti full grown Sono comuni Però va bene Ok Ok Facciamo così Voilà Ok Vediamo 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 Vabbè non serve vedere Perché tanto so già com'è L'ho detto Sono identici Adesso prendo il suo Adoro Sì lo so Ha 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 Guardate come sono belli Pet Sono identici adesso Oh No 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 ridammelo Ehi Ha 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 Ok Io l'ho rubato Vabbè adesso basta Mi Mi hai derubato Ha 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 Ok 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 Adesso facciamolo Fly Questa bella pozione Sì la voglio forever Che bello Che bello Che bello Che bello Che bello Ok Adesso che è fly Vediamo Vole Wow Ma è bellissimo Spaziale Hai ragione Adesso Sai che Ride è ancora un po' Più carino La pancia è troppo bella Infatti Sis Fai te Quello Ride Ah l'hai già fatto Molto molto bello Devo dire Che bello Cioè Sono proprio gemelli Ok Ok raga Adesso fa Il secondo pet Mary Vediamo com'è Allora È un Chocolate dog Neon Molto molto carino Sì lo so È spaziale È spaziale Ha ha Ok Ok Molto molto bello Adesso io mi compro La pozione Ride Che questo qua Lo faccio sia Ride Che Fly Perché Cioè Ok raga Adesso che è noto Vi posso far vedere meglio Com'è Cioè è bellissimo È bellissimo Guardate come si addormente Cioè proprio Sembra che si arrotola Vabbè Adesso Lo facciamo Ride Perché Cioè è bellissimo Ok Adesso guardate come Mi guarda bene Cioè mi fissa Proprio Bellissimo È bellissimo È Ok Adesso lo Alimentiamo Ok Hola Che bello Che bello Che bello Adesso 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 che è Ride Possiamo cavalcarlo Oh È bellissimo Guardate come salta Guardate come cammina Cioè è bellissimo È bellissimo Guardate che si cammina e salta Sembra proprio una vera rana Ok Molto bello Ma poi guardate che cosa bella Sono proprio gemelli Questi Eh Non passa tra le porte È troppo grande Beh Hai ragione Sis Ma guardate qua Che carini Non hai visto Non hai visto un ross Popolare Guardate Miri ha messo anche un accessorio Guardate Allora lo metto anch'io Lo metto anch'io Perché è bellissimo Allora Magari Li posso mettere uno di questi Mettiamo questo E mettiamo anche questo Abbiamo anche un cuoricino Bellissimo Magari Al posto di questo Possiamo mettere le cuffie Ok Vediamo poi cosa Che lì ci può star bene Devo dire che lì ci sta Molto 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 bene Ok Anche le cuffie E E il casco Possono andare bene Perché hanno la testa Per più Gigante È gigante Non piccola Gigante Ragazzi Guardate su com'è Ed è molto molto divertente Questo petto Guardate come cammina Cioè Sembra 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 lei quando cammina Madonna Comunque ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Mettete like a questo video E ovviamente Cliccate la campanellina E noi ci vediamo al prossimo Con una nuovissima avventura Ciao Alla prossima